Buona notizia rispetto al drammatico incidente sul lavoro avvenuto a Badia Tedalda in località Rofelle. Tutti e tre i feriti più gravi risultano fuori pericolo di vita. Anche il 37enne che versava in condizioni critiche si salverà in base a quanto riferito dall'ospedale Santa Maria Liscotte di Siena dove adesso è ricoverato. Il lavoratore resta in prognosi riservata ma è stabile. Condizioni stabili anche per il 36enne che si trova in ortopedia e per il 29enne che è invece in osservazione. Dopo l'intervento della CGL che ha parlato di ennesimo incidente di una strage che continua prende posizione su quanto accaduto anche la fisca CISL attraverso le parole di Serafino Marino. Il bilancio non è mortale dice ma questo significa poco perché se oggi non piangiamo l'ennesima vittima non possiamo far finta che l'episodio non sia grave e prosegue sulla necessità di denunciare la mancanza di sicurezza nei cantieri edili. Le incancrenite gare al ribasso per aggiudicarsi i lavori a discapito della sicurezza il ricorso al subappalto. Come sindacato aggiunge Marino chiediamo controlli da parte delle autorità preposte così come diciamo che sia necessario monitorare i cantieri da parte degli organi ispettivi, prefetture, casse edili. I controlli devono essere aumentati perché le regole legislative ci sono ma è necessario farle rispettare.